Abbiamo appena approvato questa delibera sulle attività di sostegno, le attività legate a tutta mia la città, sono attività cinematografiche, attività di teatro, di teatro di strada, che coinvolgono otto circoscrizioni per dieci luoghi, per dieci progetti scusate. Sono coinvolte più di 30 organizzazioni, 150 appuntamenti in città, crediamo di aver dato l'occasione ai cittadini di uscire, di intrattenersi con il cinema, il teatro, la musica, in luoghi molto belli, dalla Tesoriera al Parco Rignon, all'Ex-Incet, cercando di rispondere anche alle esigenze, alle aspettative dei nostri cittadini. Come stanno andando gli appuntamenti in programma? Torino è stato reale, è tutto esaurito, i concerti sono andati benissimo, sono piaciuti molto, è piaciuta molto la scelta di proporre una programmazione che fosse multidisciplinare. Una piazza raccolta, la possibilità di sedersi, di vedere con calma lo spettacolo in una cornice meravigliosa come quella di Piazzetta Reale. L'aspetto delle risorse? Riusciremo ad andare avanti sicuramente, certamente le risorse sono un problema, ci stiamo lavorando, abbiamo appena approvato in giunta e in discussione nelle commissioni un assessamento di bilancio che aggiunge un milione di euro alla cultura, che, diciamo, mette in sicurezza alcune istituzioni che erano in difficoltà, penso al Museo del Cinema, al Teatro Stabile, al Museo Diffuso della Resistenza, ecco, al sistema del teatro. Ecco, noi stiamo lavorando per trovare le risorse e per utilizzarle al meglio e lavorare anche con i cittadini e con le organizzazioni culturali per costruire insieme la programmazione culturale della nostra città. In seguito alla Circolare Gabrielli è stato necessario rivedere i programmi degli eventi? I programmi che abbiamo gestito direttamente non hanno subito nessuna modifica, abbiamo affrontato la Circolare Gabrielli con serietà e attenzione, concordando gli interventi e rispettando, diciamo, tutte le indicazioni che ci venivano indicate dalla questura. Abbiamo seguito da vicino le associazioni che si trovavano in difficoltà ad affrontare la Circolare Gabrielli, gli abbiamo dato una mano, abbiamo cercato di trovare soluzioni, in alcuni casi l'impegno economico richiesto dalla questura era stato valutato troppo elevato dai singoli organizzatori che hanno deciso di non realizzare alcune delle attività che avevano programmato. È una novità la Circolare Gabrielli, credo che siano indicazioni enorme che si risolvono con la programmazione. Arrivare all'ultimo momento è molto difficile ed è molto difficile all'ultimo momento affrontare tutte le richieste che oggi impone la Circolare Gabrielli. Quindi bisogna programmare, la città è vicina alle organizzazioni per individuare problemi e soluzioni e noi su questo stiamo lavorando.